Allora ragazzi, sono Naru, seguimi qui su Europa Universalis 4 con i nostri Inca Nell'ultima puntata abbiamo preso la città, almeno la città, stiamo colonizzando la provincia di Cartagena Città piuttosto importante e ci servirà in futuro, ci sono gli inglesi nel Venezuela qua che stanno colonizzando Maracaibo Va bene, a noi non è che dà troppi problemi, stiamo tranquilli così Abbiamo zero di manpower, perché con le ultime ribellioni abbiamo avuto diversi problemi, molti problemi Una cosa che farò subito è magari fare Arch Treatment a Pore, che ci sono diverse province caribbe che si vogliono ribellare Così aspetto un attimo e ci attacco a Cusco Prendiamo un po' di prestigio, in tanto stabilità ho già il massimo e siamo a posto così Del resto, le investigazioni sono andate male, peccato Vediamo, vediamo, vediamo Più autorità? Ah sì, aumentavo lo stesso l'autorità, però non voglio perdermi in power nelle province Una cosa che posso fare è investirmi i soldi per aumentare delle barracks un po' in giro Tipo a Cusco? Dove è Cusco? È già la mia capitale? Dove sei Cusco? Eccola qua Ah, c'è a Yaviri che dà più soldi, cioè più popolazioni in quanto manpower Non so se c'è qualcosa a nord, a quanto pare no Quindi ci conviene proprio da Yaviri Yaviri? 5 di manpower E la città quindi più popolosa è del mio impero Del mio impero, sì No, è un impero, chiamiamoli impero Diamogli un nome giusto Poi Altre cose che potrei passare le riforme, però non c'ho mai in power, quindi Non mi intriga Questo E' a posto così E dobbiamo per forza passare le riforme religiose per arrivare a un certo livello di autorità Cioè per arrivare poi dopo a poter cambiare la nostra tecnologia E passare a western Che ci serve? Non ne abbiamo assolutamente bisogno perché se no tutte le guerre contro gli occidentali le perderemo in niente Solo che non c'ho abbastanza manpower purtroppo Oh Serio? Una crociata? Perché? Cosa vi ho fatto di male? Vabbè c'ho delle fortezze in giro ma loro hanno i cannoni Molto forti Ok, quillicas cresce Va bene E possiamo adottare una nuova idea Yes Burocrazia E aumentiamo i punti del nostro impero Qua prendiamo più tasse Incorruttibili Yes E prendiamo ovviamente i nuovi nativi Questo ci aiuta abbastanza Manpower sta aumentando Loro stanno prendendo Ovviamente troppe province Ma queste province qua sono più povere Va bene Ho fatto benissimo E prendermi cartagena Se non me la Ripigliavano in niente Ci sono anche sempre degli esploratori E abbiamo anche dei naval supply Che ci potranno essere utili Successivamente Per il nostro Impero Guadagniamo 5 Che è una bella cifra Non è tantissimo Ma è una bella cifra E ovviamente Ah aspetta Una cosa che mi stavo chiedendo Mercenari di Sarebbe bello Poter prendere mercenari Don del proprio gruppo tecnologico Tipo se tu occupi una provincia Non so nemmeno se è possibile Magari è possibile Però tipo Prendere dei mercenari Di un altro gruppo tecnologico Quello sarebbe figo Sarebbe figo Che poi credo che fosse capitato Di sicuro è capitato Da qualche parte Del corso della storia E di sicuro Non so Se nel Nella conquista Azzèca e Inca Si è capitato Perché quella Inca È durata niente Quella Azzèca Che è durata un po' di più Magari Possiamo fare un grande palazzo Ma a me non mi intriga Non voglio spendere soldi Su queste cose qui Intanto di prestigio Di legittime Si sono già a posto Ma di prestigio Va bene così Dai Voglio investire Tanti soldi Adesso Ah subito Nuova idea Wow Yes Andiamo avanti Build cost Abbassato Perfetto Poi dopo c'è quello Dell'inflazione E c'è morto il teologo Quindi guadagniamo Ancora più soldi Mannaggia 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 Guadagniamo tanti soldi Ah ok Cosa possiamo fare Facciamo quello Per il manpower Che ci può servire Mmm Si Perdiamo un po' di autorità Intanto al momento Non farò la rivolta E abbiamo un buon massimo Un buon massimale Di autorità Che non è male Poi Wakas Mmm Uno Meno di stabilità Meno di legittima Si E fino alla fine Avremo Meno national arrest Direi va bene Fino alla fine del gioco Meno national arrest È una cosa Che mi intriga Perdo uno di stabilità Un po' di legittima Si Però fino alla fine del gioco Avrò Questo bonus Che è perfetto Sì adesso Pegliamo più autorità Perché non voglio Abbassare il manpower Delle province Potremmo Far passare Le riforme Effettivamente si potrebbe Anche fare Ma ho paura Che Mi possano attaccare Nel mentre I miei nemici Tanto C'ho della cavalleria Dovrei anche fare Un po' di cavalleria Ma non adesso Non adesso Dopo la guerra Inizierò a fare Un po' di unità Di cavalleria E c'è Del rebel uprising Ancora Faccio una cosa Qui Aumentiamo L'autonomia Perché se no Non riesco più A gestire Questa provincia Che ha un arrest Assurdo E dopo Vedremo un attimo Che cosa fare Con Tutto quello Che mi sta attorno Qua tra 30 anni 100 anni Siamo messi bene Quindi Attendiamo Senza problemi Qua La colonia La stanno Realizzando Tra poco Le uniforme Fanno schifo Ma non importa Possiamo fare Più barracks In giro Guardiamo sempre Le province Che ci possono dare Di più Al momento Che principalmente Sono quelle Del centro C'è questa qua Con 365 E anche Cusco Ma io preferisco Magari a fare Cusco Perché Cusco È la capitale Giusto Per aggiungere edifici In più Siamo arrivati al massimo Tra l'altro La capitale Cusco Cosa si può fare qui Potrei migliorare Il main power Di uno Di nuovo Potremmo spendere Un po' di punti Ma direi no Al momento no Sì Perdiamo un po' di autorità Ma il tempo Lo voglio comunque E adesso Non posso fare altre cose Sono a posto così Di economia Adesso Sono messo Veramente Benissimo Sono molto Soddisfatto Vabbè che Ci sono tutti forti In mothball È vero Vabbè che Per le altre cose Sono Piuttosto protetto Per quanto riguarda Ah il main power Poi dopo Si sta riprendendo Molto rapidamente Tanto loro Sono liberi Di passare In i miei territori Davvero Ok Ah giusto Una cosa Che voglio fare adesso È magari combattere Questi dannati Ribelli Fare Appena posso Che sarebbe Tra pochissimo Questa riforma Religiosa Si e anche Con diverse Fortezze Attivate Continuiamo A resistere Lo stesso Questa è la capitale La capitale L'attivo Ovviamente E ci conviene Spostare Tutte queste armate Principalmente assieme Questi qua Li sposto Nella colonia Perché se mi attaccano La colonia Diventa più un problema Ecco Banca nazionale Così prendiamo Uno più di prestigio Perché abbiamo Machu Picchu Che in teoria L'avevamo già costruita Però abbiamo di nuovo Un'altra Machu Picchu E abbiamo la banca nazionale Che ci riduce L'inflazione Quindi adesso Non avremo più Il problema Dell'inflazione Fino alla fine del gioco Credo Credo Fino alla fine del gioco A meno che ovviamente Finiamo in qualche Casino economico In quel caso Non è che c'è Tanto da fare Questo leader qua È piuttosto buono Io mi piazzo A Cusco Con tutti Faccio un'armata Unica Compatta E completa E adesso Manpower Recovery Speed Yes Dove stanno? Ah questa volta Hanno colpito il nord Oh si C'è anche un'armata Del sud Prima prendiamo Quella del sud La conquista Li distruggiamo In niente Anche questi Bogota E Kito Posto così Abbiamo vinto Inseguiamoli Non riconquistiamo La città Perché intanto C'è la fortezza Di fianco E la fortezza Ovviamente Protegge Mi stanno assediando Entrambe Le fortezze Che stanno Nella zona Aumenta Di poco La corruzione Questo non ci piace Anche se prendiamo Un prestito Non è un problema Si può comunque Prendere un prestito Adesso Non avremo problemi Di questo tipo Qua intanto Faccio un'altra battaglia Piuttosto grande E la vinciamo Senza problemi E inseguiamo Ancora le truppe Distrutto Questa fortezza Dovrebbe essere a posto No a quanto pare No Non sarà a posto No è a posto È a posto E andiamo Là Non so se però Ci conviene ancora Aspettare un attimo Prima di attaccare Direttamente Facciamo così Aspettiamo Metà Divido un attimo Recuperiamo Tutto Aspettiamo Che loro Prendano anche Un pochino Di attrito E abbiamo Costruito La colonia Cartagena Costruito Ultimato La colonia E cosa possiamo fare Antigua Antiogua Guia Qualcosa del genere Andiamo lì Perché è una provincia Piuttosto ricca E bisogna sempre Puntare per le province Più ricche Adesso proviamo Ad attaccare Sì Andiamo ancora Un po' più in debito Però Noi non importa Qua magari Facciamo anche La sortita Ok Perfetto Se non riuscite a vincere Voi tornate indietro E invece Voi inseguite Le truppe Perfetto Oh ce l'abbiamo fatto Abbiamo due debiti Adesso Che è un peccato Però abbiamo due debiti Quindi La prima cosa da fare Abbiamo Un po' di inflazione Cioè un po' di Corruzione Abbiamo il mantenimento Dei truppe Che è elevatissimo Prima cosa Le fortezze Subito Devono ritornare In Mothball Che così possiamo recuperare Un po' di Denari Per le nostre armate Perfetto Le fortezze Sono tutte In Mothball Controlliamo C'è un forte attivo Che è quello di Cusco No Qual è il forte attivo Abbiamo un forte attivo Ah è questo Questo Perfetto Ok Torniamo in positivo Fantastico Adesso dobbiamo recuperare Il manpower Però E devo ripagare i debiti Naturalmente La corruzione Non sta Dando più problemi Gran Bretagna Chiede il diritto di passaggio Io non l'accetto Non l'accetto ancora Perché questi territori Sono importanti Mi chiede il diritto di passaggio I separatisti Cajamarca Ah Quelli maledetti Ecco Io forse Dovrei invadere La Fantomatica Bellissima Nazione Di Ciccio Pasticcio Che non mi ricordo il nome Come si chiama questa Icma Perché C'è sempre questi ribelli Che escono E non riescono a controllarli E hanno problemi Tanto ci sono altre malattie europee Che danno problemi di produzione Che non sono pochi Qua vinciamo Ok Una cosa che posso fare subito Anche una piccola invasione Di Icma E prendere tutto Facciamo subito Prima chiediamo Transfer Trade Power Anzi no Facciamo così Iniziamo confermare il tutto Voi fate Transfer Trade Power Non me lo fate Allora va bene così Iniziamo a Produrre Tutto quello che dobbiamo produrre E a posto così Qua c'è un po' di Arrest Che aumenta Però Non dovrebbe essere Un problema eccessivo Qua di sicuro Attacco Icma E prendo tutto Non è che c'è tanto da fare Icma mi sta Dando problemi Per questi ribelli Che passano il confine E ci danno problemi a noi Poi oltretutto Se me la tolgo E Anche una spina Nel fianco In meno Guarda che mi hanno preso Panama Mi hanno preso Panama Vabbè io prendo l'attaccatura Che non è proprio Panama Qua c'è anche Il British Columbia Ecco una cosa che direi Miglioriamo le relazioni Pian piano Con gli overlord E qua interessi per anno Diminuiti Che ci servono Giusto adesso Per ripagare i prestiti Che abbiamo Con le banche Possiamo fare la nuova tecnologia Shipyard Ora possiamo fare i porti Sì potremmo fare i porti Però comunque non abbiamo Le tecnologie per fare le navi E questo Questo mi fa ridere Cioè possiamo fare i porti Ma non abbiamo le tecnologie Per fare le navi Ok Ok va bene Fabric late claim Siamo più o meno lì Possiamo ancora aspettare Possiamo vedere qualche alleanza Con la British Columbia Non possiamo fare alleanza Con loro Però comunque Se ci riteniamo amici Così così Qua ci sono i norvecesi Cosa ci fanno i norvecesi qui? I britannici Tra l'altro Tregua con C'è ancora l'Aragona C'è la Galicia Cosa è successo in Spagna? Aragona e Galicia Ancora presenti Più che altro la Galicia È una nazione Che non c'è la partenza del gioco È nata con un trattato di pace Vuol dire che Castiglia Se le prese tanto Magari da Aragona Questo vuol dire tanto Che paghiamo un prestito E abbiamo Ancora un altro Che tra un anno Dovrebbe Terminare Questo prestito Ce la faremo a pagarlo? Credo di sì Poi al massimo Allunghiamo Nessun problema Nessun problema a noi Qua cosa possiamo fare? Ikma Cosa? Dice che non posso fare un claim Ah perché ce l'ho già Ma perché sono intelligente io Va bene Dai prepariamoci per questa guerra Sarà rapida Indolore Indolore no Però sarà rapida Molto rapida Vado anche così Senza guardare Proprio Perché mi stanno dando Troppi problemi Prendere Lima Subito così Sì Non abbiamo fatto la missione Per il manpower Ma va bene Lo stesso E non dà problemi Ok Qua Dividiamo Mandiamo gli altri qua E ciao Apostosi Finito tutto È stato un bel conflitto Mi è piaciuto Voi Meno Land Forza Mantenimento per le forze di terra Che Mi può servire Costruzione di un tempio Sì Prendiamo anche un po' di autorità religiosa Che ci servirà tantissimo Un'altra epidemia europea Mannaggia E qua faremo Fallen Nextation Senza 6 Senza mai Senza perché Prendiamo tutto Facciamo attenzione Quindi al massimo Abbassiamo Un po' di Determinati valori Che non voglio finire di nuovo in negativo Per prendere un altro debito Se possiamo stare tranquilli Stiamo tranquilli Non prendiamo debiti Assolutamente Nessun debito Devo tenerci comunque dalla nostra parte a British Columbia Perché sarà un vicino scomodo Però un vicino che ci sarà per un po' di tempo Fino a quando Poi oltretutto se Me lo rendo un po' amico Va bene Insomma Poi per carità Dipende sempre tutto Dalla Gran Bretagna Però Intanto Centralizzazione A posto Full Annexation Datemi tutti i soldi Così ho anche preso i soldi Per ripagarmi il resto A posto Proprio perfetti Senza una sbavatura Prendiamo un po' di mercantilismo Non importa E del resto Non abbiamo missioni Possiamo accumulare soldi Che è una missione che mi intriga Oppure conquistare un'altra provincia Direi che accumuliamo soldi E per questa puntata È tutto Ci stiamo espandendo a nord Abbiamo riattivato tutte le fortezze Anche se ho detto Non attivare le fortezze Così guadagniamo di più Quanti soldi Quanti soldi Bellissimo Vabbè per questa puntata è tutto Votate, commentate Passate sulla mia pagina Facebook Per vedere sempre gli aggiornamenti Non lo dico spesso Però ve lo consiglio E ci sentiamo alla prossima Dall'Ares tutto Ciao ciao